benvenuti siamo qui con il vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per parlare di prove imbalsi le prove imbalsi per la scuola superiore di secondo grado per i studenti della maturità come sappiamo hanno inizio proprio in questo mese di marzo ora c'è una norma del decreto dl 19 che sta facendo discutere che riguarda proprio le prove imbalsi professore ci può dire di più in merito a questo ma allora questa disposizione è stata inserita nell'articolo 14 di questo decreto che hai citato e questo decreto è stato approvato pochi giorni fa è già in gazzetta ufficiale e questa norma che cosa dice che d'ora innanzi nel curriculum dello studente quello che verrà poi allegato al diploma finale dovrà essere inserita una specifica sezione in cui saranno indicati leggo proprio testualmente dal testo del decreto saranno indicati in forma descrittiva i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale cioè appunto le prove invalsi nonché la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese cioè detto in altre parole i risultati delle prove entreranno a far parte anche del curriculum dello studente questo è il in sostanza il senso di questa nuova disposizione ma è una buona cosa inserire questi esiti delle prove invalsi nel curriculum dello studente lei cosa ne pensa ovviamente come in tutte le cose anche in questo caso i pareri e le opinioni divergono però al di là delle opinioni personali che poi valgono finché valgono bisogna però fare un'osservazione le prove invalsi per così come sono state finora costruite presentate sono prove che servono dovrebbero servire a fare una valutazione di sistema cioè a mettere in relazione i risultati con le caratteristiche socio economiche del territorio le caratteristiche socio culturali delle famiglie da cui provengono gli studenti e così via si è sempre detto che queste prove non possono servire per fare la valutazione del singolo studente perché per fare la valutazione del singolo studente ci vorrebbero prove costruite diversamente quindi francamente a me sembra un pochettino contraddittorio a meno che non si pensi per il futuro di modificare in qualche modo le prove invalsi e quindi di renderle adatte anche alla misurazione degli apprendimenti del singolo studente vedremo che cosa succederà ma c'è chi parla addirittura di schedatura di questi studenti si può davvero dire questo si qualcuno sta anche ventilando questa ipotesi cioè sta dicendo che queste prove potranno essere usate anche per schedare gli studenti ma io non lo so se possiamo arrivare a questo a dire questo io mi auguro anzi sono convinto che l'invalsi abbia sempre usato tutte le procedure necessarie per fare in modo che venga garantita la privacy degli studenti e delle loro famiglie se così non è bisogna intervenire per fare in modo che appunto la privacy venga venga garantita e venga rispettata parlare di schedatura degli studenti onestamente mi sembra un po' eccessivo ma su questo credo che il garante della privacy sicuramente dirà la sua e quindi potrà rassicurare tutti noi che appunto le prove verranno utilizzate somministrate nel modo più corretto possibile bene ma parliamo di tempistiche gli esiti delle prove in balsi saranno nel curriculum dello studente già a partire da quest'anno oppure no ma questo è difficile dirlo allora ci sono alcuni problemi intanto va detto che siamo ai primi di marzo e ormai la macchina per l'esame di stato del 2024 è già partita o comunque sta partendo in questi giorni in queste settimane quindi mi sembra che sarà difficile prevedere che questa modifica entri già nel curriculum di quest'anno poi c'è da dire anche un'altra cosa che questo decreto è per l'appunto un decreto legge come sappiamo i decreti legge devono essere convertiti in legge per fare questa operazione il parlamento ha esattamente 60 giorni di tempo quindi la conversione in legge noi ce l'avremo entro i primi giorni di maggio quindi a me onestamente sembra un po improbabile che questa modifica possa entrare in vigore già quest'anno però insomma qui dobbiamo come si dice aspettarci di tutto anche perché in politica non bisogna mai dire mai quindi vediamo come andranno le cose la logica mi dice che è molto difficile che questa che questa nuova norma possa entrare in vigore già quest'anno però credo che ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane quando il decreto andrà in parlamento e allora lì incomincieremo a capire meglio la questione anche perché poi lì ci sarà anche a disposizione la relazione tecnica il dossier predisposto dal ministero e quindi sicuramente avremo elementi in più per capire meglio la questione bene bene grazie al vice direttore della tecnica della scuola reginaldo palermo per queste risposte e ci vediamo al prossimo approfondimento alla prossima grazie a tutti voi